Stop all'abbandono di rifiuti. Arrivano infatti ad Arezzo gli ispettori ambientali che avranno il compito di rilevare comportamenti non corretti ed in una prima fase informare ed educare, ma in un secondo momento, sanzionare gli utenti trasgressori. Il servizio sarà attivato a breve e sarà svolto da personale qualificato di Sei Toscana e di gestione ambientale che opereranno sotto il coordinamento dei tecnici dell'amministrazione comunale. Questa prima fase avranno una fase più informativa, preventiva e educativa, quindi faranno presente ai cittadini e agli operatori economici quali sono le regole attuali di conferimento. In una seconda fase chiaramente ci sarà un processo lento perché poi ovviamente la organizzazione per esempio nel centro storico cambierà i comportamenti e i costumi perché ad oggi sono abituati a scendere di casa e a lasciare il sacchetto dalla porta o accanto al cestino. In quel caso quindi ci sarà un processo di educazione a in nuovo. Presentato anche il piano di riorganizzazione dei servizi di igiene urbana contenente le strategie future dell'amministrazione sull'organizzazione delle modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti urbani nel territorio comunale. Nel centro storico di Arezzo la novità più saliente sarà quella sostanzialmente della separazione dell'umido dall'indifferenziato. Quindi verranno inseriti dei bidoncini di prossimità per il conferimento dell'umido. Di pari passo ovviamente poi verranno messe delle postazioni sempre di superficie per il vetro e per il multimateriale leggero. Di conseguenza verrà anche razionalizzato ovviamente il ritiro del porta a porta. Mentre sulla fascia periurbana lì abbiamo deciso di mantenere il servizio di raccolta stradale però abbiamo deciso di ammodernare tutte le isole ecologiche dotandole di telecamere, quindi di un sistema di ispezione e di un sistema di accesso controllato. In modo tale che si possa avere un riscontro diretto a chi conferisce e quindi arrivare alla premialità e alla tariffazione puntuale. Grazie.